Effettivamente quel periodo lì è stato il migliore diciamo, anche se è stato bello anche dopo, però lì è stato importante per il proseguo della mia attività, a capire anche come allenarsi, come comportarsi nella vita, in certi momenti bui sapersi riprendere. Quindi poi tutto quello che ha fatto è chiaro che è stata una perdita grossa per il ciclismo, per lo sport e per tutto insomma. Un momento in particolare, un'immagine in particolare, che cosa ricorda? Io mi ricordo un mondiale che ha vinto Mosè, che io ho contribuito alla sua vittoria, all'inizio della gara dopo un po' l'ho chiamato la macchina, Alfredo era preoccupato, dice ma cosa c'è? No, di Alfredo guarda ti voglio solo dire che ce li ho tutti in mano, li sto tenendo tutti nel mio pugno e poi invece dopo verso la fine l'ho chiamato di nuovo, dice dimmi cosa c'è? Io guarda li ho ancora nella mano ma li tengo solo con il mignolo e allora erano battute scherzose che si facevano durante la gara e questo lui l'ha sempre ricordato con piacere. Grazie 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 Grazie